Ciao, sono Jocelyn Bell. Sono nata a Belfast, nell'Irlanda del 43, da papà Philip e mamma Alison. Mio padre era un architetto e fu proprio grazie alla sua costruzione di un planetario che inizia ad incuriosirmi all'astronomia. Qualche tempo dopo scoprì, tra i tanti libri di papà, alcuni racconti legati allo spazio e tutte le sue meraviglie, e decisi per questo di iniziare a studiare scienze. Quando iniziai la scuola però, nel 48, non mi fu permesso in quanto ragazze di studiare le materie scientifiche, in quanto fossero solamente per ragazzi. I genitori però decisero di protestare e di andare contro la politica maschilista della scuola. Lì cercavano di insegnarci di essere ottime donne di casa e di zerbini su cui pulirsi le scarpe a fine giornata. Ho sempre trovato queste condizioni inammissibili, eppure mi hanno accompagnate per molto tempo. L'ultimo anno di scuola sono stata sottoposta all'eleven class, un esame complessivo che regolava la mia entrata in una scuola di grammatica. Purtroppo per fortuna non lo passai e finì in Inghilterra, in una scuola femminile, prettamente religiosa. Fu però qui che incontri un insegnante che mi cambia nuovamente la vita, facendo appassionare e affascinare alla fisica. Anni dopo inizio l'università, prima a Glasgow, nel 65 e poi nel 69 a Cambridge. Mi ricordo che ogni volta mi permettevo i piedi in un'aula di fisica, maggiormente frequentata da uomini, essi sbattevano i piedi a terra, urlavano, fisichiavano, facendomi sempre sentire a disagio. Durante i miei studi universitari iniziai a collaborare con Iwish ed alcuni altri, con lo scopo di costruire un radiotelescopio. Durante le mie ricerche però notai che nell'ascoltare le registrazioni del radiotelescopio si potevano notare un pulsare continuo e ben scandito. I miei colleghi crebbero se trattasse di alieni e più in là mi incoraggiarono a lasciar perdere. Io però non mi arresi e fu così che scoprì le pulsare a stelle di neutroni che si formano dopo lo scoppio di una supernova. Bellissima. La mia idea però mi venne rubata. Una sera lasciai il mio laboratorio incustodito e Iwish si prese il merito delle mie scoperte, vincendo un Nobel al posto mio. Ero veramente furiosa, ma tanto chi poteva credere a queste scoperte, specialmente se fatte da una donna. Ad oggi però posso dirvi di essere mi riscattata vincendo nel 2018 un primo per l'innovazione della fisica, il quale è composto da 3 milioni di dollari che ho deciso di donare in beneficenza per salvaguardare tutte le donne alle minoranze etniche, ma spesso non vengono considerati. Ora però devo lasciarvi, ma amo le uscite ad effetto e per questo vi lascio con questa frase e non rivolgere una forza che nemmeno potete immaginare, dovete solo tirarla fuori e ruggire al mondo. Grazie per l'ascolto e buona fortuna.